Le nuove linee guida della perdonanza celestiniana messe a punto dal comitato scientifico fanno già discutere e anche se si sono specificate diverse cose in questi giorni il sindaco ha chiarito che non verranno aboliti i figuranti in costume ma verrà avviata la ridefinizione delle modalità di scelta della persona che, in abiti civili però, avrà anno per anno l'onore di portare l'astuccio della bolla durante la perdonanza. Si intende inserire nel programma del prossimo corteo, come è noto, la scelta di una meritoria dipendente comunale della pubblica amministrazione che porti a nome della municipalità l'astuccio contenente la bolla del perdono come atto di pubblica gratitudine a quelle persone che con il loro silenzioso agire e l'alto impegno sul lavoro hanno meritato il riconoscimento della città, in particolare verso la ricorrenza del decennale del sisma 2009. Così sparirebbe quindi la dama della bolla, figura centrale del corteo, una posizione questa che sta facendo molto discutere e anche molto criticata. Il consigliere comunale di maggioranza Vito Colonna di Forza Italia, ad esempio, ha voluto chiarire come sia possibile rimanere fedeli alla tradizione pur rinnovando le modalità con cui essa si trasmette alle generazioni future invitando così a preservare la dama della bolla in costume. È vero, dice Colonna, la dama non è mai vissuta realmente, è stata introdotta solo da pochi decenni però è divenuta simbolo della città, una figura sospesa tra storia e fantasia certamente ma in grado di coniugare perfettamente il valore della tradizione con quello del rinnovato ruolo della donna nella società. Un'alterazione dell'ortodossia storica ed è tutto accettabile, non pacchiana. Abolire tale figura, secondo Colonna, si da una parte renderebbe il corteo storico filologicamente più corretto dall'altra spaccherebbe di fatto le animi che hanno mantenuta fin qui viva la fiamma della tradizione. E poi c'è Fabiana Costanzi, responsabile Cultura del Partito Democratico, che ha portato alla luce un altro particolare. La Costanzi ha svelato come soltanto 5 mesi fa, il 15 gennaio del 2018, con una delibera di giunta l'amministrazione abbia richiesto l'accesso, ex decreto ministeriale del 25 settembre 2017, al Fondo Nazionale per la rievocazione storica tramite l'approvazione della scheda progettuale relativa alla 724esima edizione della perdonanza. Nella scheda progettuale si fa esplicito riferimento a dame e cavalieri in costume d'epoca, circa 2000 figuranti, rappresentanza del gruppo storico del comune, ma soprattutto vi è il diretto riferimento alle figure principali del corteo, la dama della bolla che sfila con la pergamena e il giovine signore che rega in mano un ramo di olivo con cui il cardinale designato dalla Santa Sede batte per tre volte sulla porta santa della basilica ordinandone l'apertura. A questo punto non sono chiari, secondo la Costanzi, quali siano in realtà gli obiettivi di questa amministrazione sulla rievocazione storica, visto che il nuovo decalogo, redatto addirittura dal sindaco in persona, inserisce tra le incrustazioni pseudo-storiche da eliminare proprio la figura della dama della bolla. Se per la richiesta di fondi per la perdonanza fatta al Ministero è stata legata una relazione che comprende questa figura come quella di maggior rilievo, sorge il ragionevole dubbio che anche la relazione fornita all'UNESCO per la candidatura della perdonanza bene e materiale dell'umanità comprenda, se non addirittura i punti, sulla figura della dama della bolla. Questa amministrazione dunque ha mentito al Ministero o forse addirittura al Comitato UNESCO si chiede provocariamente la responsabile cultura del PD?